Sabato 25 e domenica 26 marzo si celebra la 25esima edizione delle giornate FAI di primavera. In tutta Italia sono oltre mille i luoghi aperti per poter visitare siti generalmente chiusi al pubblico. Nel Ferrarese sono quattro i tesori visitabili, due a Comacchio con le saline recentemente riqualificate e l'inaugurazione del nuovo e atteso Museo del Tantico e due in città con il monastero del Corpus Domini a cura degli apprendisti ciceroni dell'Istituto Tecnico Aleotti e con Palazzo Giulio d'Este, sede della Prefettura a cura del Liceo Scientifico Roiti. Abbiamo la possibilità di vedere Palazzo Giulio d'Este, oggi sede della Prefettura, quindi è un palazzo tutto sommato non troppo conosciuto, per cui questa è veramente l'occasione di una riscoperta. Inoltre c'è la possibilità di vedere ambienti che normalmente non sono aperti al pubblico. L'unione tra questo aspetto e le notizie che siamo riusciti a ricavare, pensiamo possano essere una buona occasione per il pubblico di scoprire un palazzo veramente molto interessante. Il Palazzo di Giulio d'Este è il palazzo che esponiamo in questa giornata del FAI, ci siamo divisi in vari gruppi e prendiamo dei gruppi di persone a cui appunto parliamo di questo palazzo e il contesto in cui si trova. Le persone poi ci fanno diverse domande a seconda delle loro curiosità e quindi è più un dialogo che solo una guida. Quindi è proprio noi che esponiamo e loro che ci chiedono. A noi piace questa esperienza perché comunque ci fa sentire più importanti che semplici scolari seduti su dei banchi. Grazie. 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 Grazie.